A quattro giorni non sono sufficienti per cercare di installare un rapporto, di cercare di fargli capire la situazione. Indubbiamente proveremo a provare qualcosa di diverso. Abbiamo avuto una settimana in cui si è giocato lunedì, perciò martedì e mercoledì qualche d'una aveva ancora qualche piccolo fastidio. Di conseguenza molti non li ho avuti, se non per uno o due allenamenti a disposizione. Mi sono fatto un'idea, c'è da lavorare, loro lo sanno e questa è la cosa importante. Io voglio una squadra che entra in campo, che cerchi sempre di giocare e che cerchi sempre di andare a vincere, perché la classifica lo impone. Detto questo, di fronte abbiamo un avversario che ha dei numeri, che ha delle qualità molto importanti. È vero, è una squadra che nell'ultimo periodo si è un pochettino ripresa, ha avuto anche lei un percorso un pochettino così travagliato, però è una squadra pericolosa. E di conseguenza loro sanno perfettamente l'avversario che affrontiamo, domani mattina continueremo a studiarlo per fargli vedere delle immagini. Io mi aspetto che loro mettano un pochettino, che vadano oltre. Qui c'è bisogno di tutti, c'è bisogno. Domenica tra poche ore abbiamo una partita importantissima, mercoledì abbiamo un recupero e poi andiamo a Padova. Nell'arco di una settimana giochiamo tre partite che potrebbero essere, non dico determinanti, ma decisive, perché non è che manca due gironi o un girone e mezzo alla fine del campionato. Qui c'è bisogno di Petrella, c'è bisogno di Caidi, c'è bisogno che Scipioni recuperi la condizione, c'è bisogno di tutti. C'è bisogno che se uno viene portato in panchina e deve fare 20 minuti, faccia 20 minuti alla morte. Io l'ho detto ai ragazzi, qui c'è un gruppo, soprattutto in alcuni ruoli, in cui tutti potrebbero giocare. C'è bisogno di fare 20 minuti alla fine.